Gravina, diceva le proposte del centro-destro sono pura follia, lei cosa risponde? Io rispondo che le nostre proposte sono pura concretezza, perché siamo partiti col dire che bisogna ricominciare da capo, bisogna ricominciare dalle cose semplici, minime. Un esempio lampante, anche se già ripetuto, è quello della manutenzione delle strade, quindi intendiamo fare una manutenzione ordinaria delle strade, mi pare evidente che manchino le cose semplici. Lei da quel palco ha lanciato alcune proposte, proviamo a entrare un po' più nel dettaglio, defiscalizzazione per le attività commerciali? Perciò defiscalizzazione per le attività commerciali ci riferiamo anche e soprattutto alle attività che sono nel centro storico, perché vogliamo riportare la vita e la gente in quelle zone. Quindi vogliamo spingere le persone che intendono assumersi questo rischio imprenditoriale a rimettere delle attività, naturalmente attività che esaltino le nostre eccellenze, tra le altre misure anche quello di riaprire sia le viabilità di piazza prefettura che quella del corso. Naturalmente abbiamo già ascoltato alcuni degli esercenti commerciali della zona, ma parleremo prima, avremo un colloquio molto approfondito con loro, l'idea è quella di aprirla fino a un certo orario della giornata, fino alle ore 18. Meno tasse alle famiglie, meno ambienti, cosa significa? Diamo qualche riferimento in più. Sì, sicuramente ci attiveremo per una riduzione del 30% delle tasse comunali, questo per tutti, un'esenzione totale per le famiglie che versino in una situazione di assoluta indigenza. Questi sono alcuni dei segni con cui noi vogliamo essere vicino alle famiglie e poi abbiamo pensato per i giovanissimi di offrire delle attività extrascolastiche in modo gratuito, naturalmente laddove ci siano queste condizioni di bisogno. Questo perché il principio di uguaglianza dei cittadini possa essere assicurato quanto più possibile soprattutto ai giovani e borse di studio per gli studenti meritevoli, introdurre anche questo criterio della meritocrazia, 200 alloggi comunali, almeno 200 alloggi comunali, di cui magari 50... L'acquisto della prima casa per le giovani coppie, no? Per le giovani coppie noi abbiamo pensato per 36 mesi quindi di azzerargli le tasse, quindi per favorire le nuove coppie... Che vogliono acquistare la prima casa. Che vogliono acquistare la prima casa. Senta, nelle immagini vediamo Matteo Salvini che dal palco le ha suggerito una cosa, le ha detto Maria Domenica parla meno degli avversari e di più del tuo programma. Ma è un suggerimento che lei ha colto e forse anche per questo evita di confrontarsi con Gravina? Assolutamente. Assolutamente. È inutile farsi le guerre e quindi riempire i talk di polemiche e anche i telegiornali di chiacchiere di questo genere. Io penso che a questo punto ognuno di noi debba spiegare bene il proprio programma. Prima di congedarla, questa domanda gliela devo fare. Lei ha detto meno tasse per le famiglie. Anche il governo centrale vorrebbe fare tante cose e poi si scontra con le coperture, le famose coperture. I soldi ci sono per fare questo che dice lei? Dove li trova? I soldi per fare queste cose che noi stiamo dicendo ci sono, le troviamo da un'ottimizzazione appunto di quello che è il bilancio comunale che sarà la prima cosa che noi andremo a esaminare. Quindi andremo a vedere, ma soprattutto contiamo anche sull'appoggio della Regione. Ci sono dei finanziamenti per tanti progetti che noi pensiamo. Uno di questi è anche quello l'abbattimento del Roxy e la riqualificazione di tutta la zona che c'è intorno. Quindi invece non solo con risorse proprie del Comune ma ci sono altre risorse che si possono intercettare. Ci sono altre risorse, si aprirà un dialogo anche con la Regione su queste risorse. Grazie a tutti.